Allora, inizio con l'emendamento numero 14. Da quello che abbiamo appreso dai giornali, dalle dichiarizioni del Sindaco e dell'assessore Maran, si ha intenzione di istituire ogni domenica del mese una domenica a piedi. Allora, credo che sia necessario dare anche un segnale nei confronti della cittadinanza. Io qui chiedo di poter estendere in tutte le domeniche dell'anno, quindi non solo nelle domeniche in cui si bloccano tutti i mezzi, la validità del biglietto ordinario urbano all'intera giornata. Quindi col biglietto da 1,50 euro la domenica chiedo di poter far circolare i cittadini milanesi tutto il giorno. Mi piacerebbe poterlo chiedere anche per il sabato, in modo da incentivare l'uso dei mezzi pubblici sabato e domenica, perché sono i giorni in cui possono circolare anche i veicoli più inquinanti. Quindi uno magari va in centro con l'auto perché tanto non paga l'Ecopass. Però, siccome capisco che ci sono anche delle limitazioni economiche, chiedo semplicemente di farlo nel giorno di domenica. Quindi con 1,50 euro permettere a tutti di circolare liberamente per tutta la giornata. Allora metto in votazione l'emendamento numero 14. Dichiaro chiusa la votazione, sono presenti 38 consiglieri e 38 voti favorevoli.